Migliaia di studenti alle prese con la scelta dell'università e Baronissi ripropone Unisa Orienta. Enrico Doringer. Al via al campo di Baronissi dell'Università di Salerno la decima edizione di Unisa Orienta con i suoi seminari di orientamento ai singoli percorsi formativi che quest'anno vedranno la partecipazione di circa 9.000 studenti provenienti da 80 scuole della Campania e del Mezzogiorno. 8 giorni di seminari sulle più varie attività che sono svolte all'interno dei nostri campus e quindi dare la possibilità di avere informazioni per una scelta consapevole che è importante per il loro futuro ma che è importante anche per il nostro futuro perché sappiamo che noi siamo valutati anche in funzione della qualità e della didattica e della ricerca che riusciamo ad offrire. Sono seminari di presentazione degli obiettivi formativi degli sbocchi e occupazioni dei corsi di studio per fare capire cosa c'è dentro la scatola università. Una mission, quella di Unisa Orienta, fondamentale per indirizzare gli studenti ad una scelta consapevole della facoltà universitaria riducendo al minimo gli abbandoni e i ritardi nel percorso di studi con l'aiuto del test di autovalutazione e con il valore aggiunto quest'anno del progetto europeo Garanzia Giovani per l'orientamento e la formazione finalizzata al lavoro come ci spiega il dirigente regionale Odati. La regione Campania Garanzia Giovani significherà 200 milioni di euro in termini di doti di formazione in una contiguità e continuità tra istruzione, formazione e lavoro.